Benvenuti nel mondo di Epos. Epos è un marchio svizzero di orologi fondato nel 1983 da Peter Hofer, che si distingue per la qualità e la precisione dei suoi prodotti. Questo marchio di orologi di alta gamma è noto per il suo design elegante e sofisticato, che spazia dal classico al moderno. Gli orologi Epos sono disponibili in modelli sia da uomo che da donna, con una vasta gamma di stili e funzionalità. Tra i modelli più popolari ci sono le Motion, il Chronograph 33-87 e il Power Reserve. La qualità degli orologi Epos è garantita dal loro movimento svizzero di alta qualità, come ETA e Sellita, e dall'utilizzo di materiali pregiati come l'acciaio inossidabile, l'oro e il titanio. Molti modelli includono anche funzionalità come calendari, fasi lunari e cronografi, che rendono questi orologi non solo belli da vedere, ma anche altamente funzionali. In conclusione, gli orologi Epos sono una scelta eccellente per chi cerca un orologio di alta qualità e dal design elegante e sofisticato. Grazie alla loro artigianalità, alla qualità dei materiali e dei movimenti, e alle numerose funzionalità disponibili, gli orologi Epos sono diventati una scelta popolare tra gli appassionati di orologi di lusso e collezionisti. Se stai cercando un orologio che unisca eleganza, qualità e funzionalità, gli orologi Epos sono sicuramente una scelta da prendere in considerazione.